Oggi sappiamo che l'alimentazione è un importante strumento per la prevenzione di numerose patologie. Sempre più studi invitano a modificare il nostro modo di mangiare e ad aderire a una dieta sana. Il Codice Europeo contro il Cancro, l'Associazione Americana di Cardiologia e altre autorevoli associazioni hanno individuato alcune raccomandazioni fondamentali per proteggere la nostra salute dalle malattie cardiovascolari, oncologiche e in generale dalle malattie legate all'invecchiamento. Terme di Sirmione ha deciso di fare proprie le indicazioni che emergono dalla ricerca, creando piatti basati su cereali integrali e i loro derivati, legumi e un'ampia varietà di verdure e frutta che sono la base della nutrizione umana. L'utilizzo di zuccheri semplici e di grassi saturi è stato fortemente limitato, mentre è stato eliminato completamente l'olio di palma. Inoltre, alimenti considerati non salutari dalla ricerca europea e internazionale, come le bevande zuccherate, verranno gradualmente sostituiti da estratti di frutta e verdura, proposti secondo la stagionalità e il loro colore, per favorire l'assunzione di tantissimi antiossidanti presenti nel mondo vegetale. Le ricette a base di formaggi, carni rosse e salumi, pur essendo preparate con materie prime di alta qualità, restano presenti nei menu, ma con l'indicazione di limitarne il consumo. La scienza e le termine di Sirmione stanno riscoprendo e riproponendo la vera dieta mediterranea.